Buonasera a tutti, vi ringraziamo di essere qui numerosi a questa seconda serata di Velletri Libris edizione 2024. Questa sera abbiamo di nuovo il piacere e l'onore di essere con la Sestina dello Strega, quest'anno Sestina appunto. Ringrazio veramente tanto la Fondazione Bellonci che è qui questa sera, rappresentata dal direttore Stefano Petrocchi, che ringrazio e che invito a salire qui sul palco per dare un saluto. Ringrazio perché anche quest'anno insieme abbiamo costruito questa ultima serata che in realtà è l'ultima tappa dello Strega Tour. Insomma noi ci siamo, come ti ho appena detto, e vorremmo continuare a essere in collaborazione con lo Strega perché è un grande onore per noi, è un po' quel qualcosa in più che riusciamo a dare al Festival e qui a Velletri chiaramente e alle nostre attività durante tutto l'anno. Quindi grazie veramente. Darei subito la parola appunto a Stefano Petrocchi, chiedo scusa, per dare appunto un saluto. Ringrazio anche la BIPER che è qui presente, poi chiaramente sarà allo stesso Fondazione a ringraziarla, che è chiaramente il partner dello Strega e soprattutto a tutti voi. Ringrazio l'amministrazione comunale che è qui presente, con il vice sindaco e l'assessore della cultura Chiara Ercoli, che abbiamo piacere di farle dare un saluto se si può avvicinare. E chiaramente alla Fondark, rappresentata dal presidente Tullio Sorrentino e Giacomo Ziro, la direzione artistica, che danno modo di poter utilizzare questo meraviglioso spazio per svolgere il nostro Festival. Quindi grazie ancora a tutti a voi, do la parola a Stefano Petrocchi. Buonasera, grazie. Grazie Guido, è davvero un piacere tornare anche quest'anno qui a Velletri. L'anno scorso abbiamo quasi finito qui il tour, quest'anno lo finiamo davvero. Gli autori sono stati in giro e hanno fatto incontri ogni giorno dal 5 giugno in avanti, quindi davvero è stata un'impresa da parte loro. Ormai è un pezzo non staccabile dal premio Strega, lo Strega Tour, perché ci consente di portare gli autori e i libri che sono in gara a contatto con i lettori in tutta Italia e anche fuori, perché c'è sempre una tappa all'estero. Lo Strega Tour è un'iniziativa della Fondazione Berlonci, che non potrebbe, come molte altre, esistere senza il contributo di Strega Alberti e di Biperbanca, che naturalmente ringrazio. Gli autori, ho fatto i primi dieci giorni di tour insieme a loro, poi li ho lasciati per tornare a lavorare sul premio e li ho ritrovati adesso. Li ho trovati in buona salute, devo dire, li vedrete belli tonici. Sono un gruppo fantastico e si danno energia l'uno con l'altro. Anche concretamente è capitato in un passaggio da Roma che Chiara Valerio soccorresse l'auto in panna di Giartosio, mettendo appunto i cavetti per ricaricare la batteria. Ecco, hanno continuato a fare questa cosa per tutti quanti, per tutto il tour. Grazie davvero e buona serata. Passo la parola al vice sindaco Chiara Ercoli. Buonasera a tutti, devo dire che è un onore per me e per l'amministrazione e per la nostra città ospitare i sei finalisti del premio Strega. In questo caso i ringraziamenti sono assolutamente dovuti principalmente ad Aurora e Guido, che da otto anni portano avanti questo festival, che diciamo è il fiore all'occhiello delle nostre estati per quanto riguarda la cultura. E li ringrazio anche di aver scelto sempre questo luogo incantato per il festival. E devo dire che il premio Strega, nato dalla lungimiranza e dalla generosità della famiglia Alberti, per riportare la cultura al centro nel dopoguerra, negli anni è diventato uno degli eventi culturali più importanti a livello nazionale. E questi amici della domenica, adesso credo siano un esercito di 400 donne e uomini che rappresentano la cultura nel nostro paese. E che quindi questi libri raccontano la nostra storia, i nostri cambiamenti, la tradizione e soprattutto la nostra lingua. e concludo con un augurio che era un po' quello del famoso spot del Liguore Strega. Vi auguro di essere affascinati e stregati da questo luogo, da questa serata, ma soprattutto dai libri. Grazie. Grazie di essere qui, chiaramente di sosportare la nostra magistrazione, le parole che ha detto, insomma noi ci teniamo molto a ritrovarci sempre qui al Chiostro della Casa delle Culture per questa promozione alla lettura che da tanti anni, come abbiamo detto, facciamo, ma sempre grazie al pubblico che senza di loro appunto non saremo qui. Vorrei dare la parola a Giacomo Zito, appunto direttore artistico della Fondark, per poi chiamare i sei finalisti e dargli il benvenuto. Grazie, grazie Guido, grazie a tutti voi, buonasera, è bellissimo vedere il Chiostro riempito per questa iniziativa straordinaria qui a Velletri, che Guido, Aurora e tutto lo staff di Mondadori del bookstore di Velletri sono riusciti anche quest'anno a realizzare. Io parlo a nome della Fondazione, ringrazio il Presidente che è qui con noi, Tullio Sorrentino, che è un grandissimo sostenitore dell'attività che Guido, Aurora e tutta la famiglia svolgono da tempo, da prima che arrivassi io. Io volevo soltanto dire una cosa che per me è preziosissima, cerco sempre di parlare trovando le parole che sono, diciamo, quelle che ritengo arrivino un po' al cuore di tutti noi. Loro fanno un lavoro eroico, straordinario. Ne parlavamo pochi giorni fa insieme a Chiara della vera e propria battaglia che dobbiamo sostenere perché si riabitui il pubblico delle nuove generazioni a leggere. A noi sembra un passaggio un po' naturale. Io sono stato, lo sono ancora, uno che comunque legge i libri, sono stato abituato a farlo. La nostra generazione, insomma, chi era appassionato aveva modo di poter soddisfare questa passione. Ma abbiamo l'impressione, da genitori soprattutto, che ci sia un po' un allontanamento dalla parola scritta. Allora io trovo eroico il loro lavoro come trovo eroico il lavoro degli scrittori che sentono un bisogno, un'urgenza nel trasformare le loro immagini, la loro vita, le loro emozioni in qualcosa da condividere con il mondo intero. Ma lo fanno anche con una, come dire, consapevolezza. E quindi se noi aiutiamo tutti loro a far sì che questa esperienza, quella della lettura, non sembri, perché non lo deve essere, non lo è, un'esperienza di nicchia, penso che possiamo fare più bello il mondo. Grazie. Grazie. In realtà grazie alle tante attività che promuoviamo nelle scuole riusciamo ad entrare all'interno delle famiglie, all'interno della cultura, proprio delle giovanissime eleve. Quindi ci stiamo mettendo un bel pezzo per fare sì che questa cosa avverrà. Io intanto mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto Guido, soprattutto a tutti voi che siete qui e che ogni sera veramente ci date un motivo e un modo per continuare ad andare avanti. Ringrazio gli editori e gli autori di questa sera, ma tutti quelli che saranno nel nostro calendario e quelli che ci sono stati, e soprattutto anche tutti quelli che ci seguiranno nei comuni oltre Velletri, perché abbiamo cercato di esportare questa esperienza e questo format anche in altri comuni. Per cui, ecco, noi insomma ce la stiamo mettendo tutta, ma è solo grazie alla vostra presenza e al fatto che ci siano veramente lettori così appassionati che andremo avanti. Allora, io adesso chiamerei qui sul palco i sei finalisti dello Strega. Fra di loro veramente, come ha detto Stefano Petrocchi, c'è una bellissima armonia, sicuramente lo noterete anche voi ed è veramente una cosa bella. Al termine si fermeranno qui per ciascuno di loro per il firmacopio, per cui vi chiediamo cortesemente soltanto di non accalcarvi tutti insieme perché ci sarà il tempo e lo spazio per tutti e si fermeranno proprio qui sul palco avvicinandosi più possibile all'esterno. dialogherà con i sei autori Flavia Capone che ringrazio anche lo scorso anno, è stata qui da noi e la ringrazio veramente tanto. Buon ascolto, buon proseguimento. Grazie. Buonasera. Scusate se entro ridendo, ma mi sembra un po' di condurre un gruppo vacanze questa sera, quindi se sapevo mi portavo l'ombrellino e me li facevo entrare così uno per uno. Allora, Paolo Di Paolo, buonasera. Donatella Di Piero Antonio, buonasera. Devo indovinare chi c'è dopo. Facciamo Tommaso Gialtosio. Buonasera. Chi c'è, Raffaella Romagnolo? Sì, ok. Chi c'è? Dario? Chiara Valerio, ok. La clacca di Chiara Valerio e Dario Voltolini. Buonasera, prego. Prego, prego, accomodatevi. Come se fosse la 174esima presentazione che fate, quindi potete stare ben tranquilli e ben saleni. Grazie mille, sono molto contenta di essere qui stasera. Grazie a tutti voi, grazie a Veleti Libris che anche quest'anno mi ha permesso di partecipare a questa serata, a questo evento, a questa presentazione. Mi scuserete se devo tirare fuori tutto quanto dalla valigia, perché insomma sono sei libri anche di un certo peso, ce la posso fare. Un applauso, un applauso. Grazie. Eccoci, grazie mille. Come è collaborativa questa sestina, grazie mille. Allora, intanto veramente sono molto sorpresa dell'atmosfera trovata, che un po' si era intuita, diciamo, seguendo le presentazioni precedenti e i vostri canali social, insomma, di chi lo utilizza, quelli dello strega, perché insomma mi pare che si sia formato un gruppo veramente molto affiatato e molto divertito, che mi pare l'atteggiamento migliore con cui prendere una situazione come un premio che è molto importante, sicuramente il premio, diciamo, letterario per eccellenza in Italia, ma è anche una situazione per cui cinque o in questo caso sei persone si trovano a vivere gran parte della propria vita per alcuni mesi insieme, e quindi è giusto, insomma, che si crei anche un'atmosfera così. Io ho pensato questa sera di approcciarmi a questi sei libri in una maniera abbastanza semplice, ma facendo parlare sia i libri che gli autori e le autrici. Da ogni libro ho scelto una piccola frase e da questa voglio partire per ciascun autore. Non sarò io, ovviamente, a raccontarla, ma saranno loro a dire, diciamo, qualcosa partendo da quella singola frase e poi ci saranno altre due o tre cose che vi chiederò assolutamente, diciamo, in linea con l'atmosfera di questa serata. Io vado in ordine, mi sa, sì. Partirei da Dario Voltolini. Così, così. Il più vicino a me questa sera. Il suo libro si intitola Invernale, è pubblicato da La nave di Teseo e la frase che ho scelto, anzi la parte che ho scelto è questa. Scrutando, passo davanti alla soglia della loro camera e mi fermo. Loro due sono seduti sul bordo del letto, sulla sua piazza, quella verso la porta finestra, una di fianco all'altro come al cinema. Vedo discorcio le nuche, perché loro guardano in direzione del pavimento. Vedo le schiene. Questo è un istante che ha una durata. Mi allontano senza far rumore. Una miscela dal potenziale che non si può nemmeno immaginare, fatta di rabbia e di impotenza e di qualcosa senza nome. Prende possesso delle mie cellule. Non imparo più nulla, dimentico il poco che so. Partiamo da questo. Dario Voltolini. Buonasera. Cosa devo fare? Commento. Questa è una pagina di un libro di Dario Voltolini che si intitola Invernale. è una pagina in cui il narratore, che poi è anche uno dei personaggi, cioè sono io, nel libro è il figlio del papà che si ammala. Nel libro qua, il figlio che è giovane, vede, guarda nella camera dei genitori, ci sono il suo padre e sua madre che sono seduti sul letto, lui li vede di schiena. Ed è un momento molto cruciale perché è quando si scopre con la diagnosi della malattia di mio padre. E quindi io non oso entrare nella stanza dove, che è la loro stanza da letto, dove loro sono in meditazione, non si stanno dicendo niente, sono semplicemente seduti e guardano per terra. E io, mi ricordo, passo dietro di loro, sono sulla soglia della porta, li vedo, e questa immagine mi rimane in mente e mi rimane in mente al punto da raccontarla qua per esattamente come è andata. E questo mi permette di dire una cosa che mi hanno spesso chiesto, è come mai un libro che è sostanzialmente autobiografico, nel senso che sono io che parlo di me, perché in relazione a mio padre, abbia un io narrante che è un po' discosto. E questa è un po' la scena che fa da modello alla posizione reciproca che ha il figlio e il rispetto ai genitori, sta, li vede, li vede da dietro, loro non si fa vedere, loro non sanno che lui c'è, però lui osserva e per discrezione e anche per paura e anche perché è una storia più grande di tutti e tre insieme, non entra, non supera quella soglia, la vede, ma non la supera. E questo è un po' il modello di come sono posizionati l'io narrante, l'autore, il figlio, il personaggio, il padre, eccetera, tutte queste cose che fanno di un libro un'opera letteraria, ma il nucleo è quella scena lì. Grazie, grazie mille. Non vi preoccupate, poi entro un po' più nello specifico, lo so che sembro matta a cominciare così, però mi serve anche un po' per sentire le voci dei libri. Chi era Valerio? Il libro si intitola Chi dice e chi tace, se è Lerio, e perché non ci hai provato? Non mi è venuto in mente e poi non rovino le famiglie, ma chi ti ha detto che saresti riuscita a rovinarci? E poi che ne sai di cosa rovina le famiglie? Invece tu lo sai cosa rovina le famiglie? Certo che lo so, una cosa sola, e cioè l'incapacità di accettare che quelli che ami cambino. Buonasera, questo è un dialogo tra Lea Russo, che è la voce narrante di Chi dice e chi tace, e Mara, che è la donna che è arrivata insieme a Vittoria nel 1974, qui siamo negli anni 90, sono passati 20 anni, Vittoria è morta, Lea si è incapricciata di questa donna morta affidandoci a quello a cui ci affidiamo tutti, cioè alla logica, pensando che è razionale che non sia morta, che non sia stato un incidente, invece forse è così, forse non è così, e a un certo punto Mara, che è la donna che ha vissuto con Vittoria per un sacco di tempo, le dice ma forse ti piaceva Vittoria, e lei ovviamente dice che forse non le piaceva in quel senso, però poi dice io non sono una che rovina le coppie, e lei dice, intanto dice ma come ti permetti, io ci sono stata 20 anni, tu adesso sei arrivata, Vittoria è morta, perché dici questo, e lei dice che cos'è che rovina le famiglie, e in effetti non solo le famiglie, rovina tutti, cioè pensare che le persone non cambino, e non riuscirà ad accettare che le persone cambino comunque, che uno le ami o non le ami, e questo diciamo è il, siamo in mezzo di quest'azione qui, cioè quando lei è russo, si accorge che lei forse, nonostante si ritenga una persona buona e commendevole, non riesce a pensare che qualcun altro, che qualcun altro cambi, qualcun altro cambi nonostante lei lo ami, che è il problema probabilmente di tutti quanti. Grazie. Raffaella Romagnolo Aggiustare l'universo pubblicato da Mondadori Vivere è correre rischi, pensa Gilla, vivere davvero non solo stare al mondo, lo pensa davanti al direttore come lo pensava accanto ad Esther nell'intercapedine puzzolente, molto rischioso signorina Gilla, vivere è un grosso rischio direttore, salire in montagna è stato un rischio gigantesco, però adesso si vota e votano tutti, anche quelli che in montagna non sono saliti, anche gli uomini di chiesa, anche le donne repubblicane e le donne monarchiche. Gilla vorrebbe dirlo, ma tace. Grazie. Siamo verso la fine di questo romanzo in un momento di incontro-scontro tra una delle protagoniste, questa giovane donna, questa maestra di scuola elementare, qui si sta concludendo la storia principale, che si svolge nell'anno scolastico 45-46, quindi il primo dopo la fine della seconda guerra mondiale e il personaggio con cui lei parla è il direttore della scuola elementare in cui lei lavora e in cui ha incontrato questa bambina misteriosa all'inizio che costituirà per lei un enigma per molto tempo, insomma, finché qui ci stiamo avviando allo scioglimento. Il confronto tra questi due personaggi è veramente il confronto tra un mondo vecchio e un mondo nuovo perché la crisi, il grande punto di caduta che è stata la seconda guerra mondiale per il nostro paese, per l'Europa tutta, effettivamente ha portato sulla scena della storia come protagonisti, come nuovi protagonisti, le generazioni più giovani che sono quelle effettivamente, diciamo, per i luoghi da dove vengo io salita in montagna ma in generale che hanno poi fatto la resistenza in tutto il paese in tempi con modalità diverse e lei è in più una donna che ha fatto la resistenza quindi è una scena di incontro ma anche scontro dove lei non ha un atteggiamento come dire di piena contrapposizione violenta nei confronti del rappresentante del mondo vecchio ma è molto ferma e quindi insomma si rende conto che neanche un po' abbastanza di sentirsi dire come bisogna vivere visto che ha messo la sua vita a disposizione per poter avere un futuro diverso grazie Tommaso Giartosio autobiogrammatica pubblicato da Minimum Fax lingua e linguaggio una coppietta battagliera mi servivano entrambi ma preferivo il secondo quando un editor americano per suggerirmi di formulare bene una data argomentazione mi ha detto here you could provide some language showing that qui vedi potresti fornire un po' di linguaggio che mostri come ho capito che il linguaggio era un taglio di carne o un metro di stoffa una cosa materiale e che una lingua a raccontarla diventava linguaggio così come una persona a raccontarla diventa per forza un personaggio ciao a tutti grazie tu stai scegliendo delle frasi noi siamo alla ventinovesima credo presentazione diverse o sempre le stesse nuove e sono veramente interessate era il mio obiettivo e stimolante per noi grazie giuro che non ero presente alle altre non ho fatto stalking non credo giuro non credo il libro parla di linguaggio e parla di persone ed era importante quindi parlare di linguaggio e non di lingua non voleva essere un manuale di linguistica ma un racconto di come le parole vengono effettivamente usate come una roba come una stoffa come una materia che costituisce le persone e quindi costruire anche le persone come personaggi come persone che vengono raccontate a tutto tondo ma anche con quegli elementi di semplificazione e medesimazione che fanno di loro dei personaggi per cui c'è una madre c'è un padre c'è un amico del cuore poi c'è un altro amico del cuore che scalza il primo in qualche misura e ci sono professori siamo negli anni 70 80 e siamo negli anni che vanno dall'infanzia fino all'inizio dell'università ai primi anni dell'università e il linguaggio diventa un modo per raccontare ciascuna di queste persone e quindi sentirne la materialità è estremamente importante a volte a volte ho veramente messo alla prova la pazienza credo dei lettori per il modo in cui mi soffermavo su una parola un nome per cercare di ricavare dai suoni di quella parola dai suoni che la compongono gli elementi minimi che stimolano la fantasia l'immedesimazione la relazione eccetera quindi è proprio il tentativo di raccontare questo attraverso le parole poi magari faremo anche degli esempi più avanti ma intanto mi limito a dire questo grazie donatella di pietrantonio l'età fragile pubblicato dai naudi mi ha chiesto di aiutare di aiutare osvaldo e poi ha aggiunto se te lo senti se gli vuoi bene è questo che intende mio padre non conosce le parole dell'affetto la sua lingua ne è priva a volte l'ho pensato da giovane che non sapeva dire l'amore a una ragazza la sua prima e unica esperienza forse lei se l'aspettava una mezza dichiarazione in dialetto mi hanno concepita restando muti lui per ignoranza lei per pudore grazie buonasera grazie di aver scelto queste righe sono molto contenta rimaniamo sulla questione della della lingua qui della lingua mancante è un tema a cui io tengo molto per essere io stessa cresciuta in una famiglia dove c'era questo tipo di lingua molto avara in cui non non esistevano le parole relative agli affetti ai sentimenti all'amore ma anche le parole astratte esistevano solo parole molto legate alla terra molto concrete ne parlavamo anche giorni fa una volta mi sono divertita a contare quante parole ci fossero in dialetto per dire zappa ed erano una decina perché erano riguardavano la grandezza la forma il tipo di uso che se ne faceva il tipo di manico quindi zappa zappetta magari bledander però poi non c'erano le parole per dirsi chi sei tu per me che cosa provo io per te e quindi anche questa parola amore che in fondo era il fondamento di questa famiglia che costruiscono questi due coniugi questi due genitori non veniva mai mai pronunciata e non che proprio non esistesse ma era una parola quasi quasi pornografica si usava per indicare gli animali in in calore per cui per dire di una persona che perdeva il controllo e quindi si comportava in modo strano si diceva fa come la pecora innamorata ecco questo per dire poi per riprendere la domanda di prima che cosa rovina le famiglie forse anche questo l'inesistenza di una di una lingua delle emozioni degli affetti e a volte succede possiamo superficialmente pensare che in fondo non ce ne sia neanche bisogno che bastino le posture gli sguardi i sorrisi le azioni ma io non credo che sia che sia proprio così a volte quando non ci sono le parole per dirlo può sembrare che non esistano nemmeno gli affetti sottostanti questo io ho visto nella mia vita e questo vivono i personaggi qui è Lucia che ci racconta il mutismo con cui i suoi genitori l'hanno concepita grazie paolo di paolo romanzo senza umani pubblicato da feltrinelli il commercio con gli altri con le loro attese i loro desideri i loro giudizi benevoli o malevoli che fossero non ha mai smesso di affaticarmi diagnosi introverso parli poco te ne sta in disparte o sulle tue ma io guardavo le cose e parlavo direttamente con loro loro rispondevano stando zitte come me era una preghiera da silenzio a silenzio sì in continuità con quello che diceva Donatella in queste tante settimane che abbiamo passato insieme a discutere dei nostri libri anche con gli altri scrittori e scrittrici parte della dozzina poi a un certo momento o che lo volesse il moderatore la moderatrice o che capitasse parlando abbiamo trovato tanti fili più o meno evidenti uno effettivamente più ricorsivo è proprio quello della riflessione sulla lingua in dialettica col silenzio con quello che appunto non si riesce a dire se le parole ci esprimono c'è sempre comunque un limite intanto dell'indicibile e poi di quello che facciamo noi stessi fatica a trasformare in parola e credo che non sia nemmeno troppo paradossale che gli scrittori o gli scrittrici che sono quelli che in una società maneggiano dovrebbero maneggiare con più disinvoltura anche parole meno usurate meno consuete parole che stanno nelle profondità del lessico poi si interroghino così anche dolorosamente sul silenzio sui limiti del silenzio nella vita degli umani e anche un silenzio appunto dicevo dell'indicibile in questo passaggio il personaggio effettivamente riproduce una difficoltà che molti di noi conoscono che ha qualche volta radici culturali profonde profondissime non c'è bisogno di dire troppo ma neanche poi si dispone di quegli strumenti per dire oppure in una zona della società o del tempo delle epoche più disinvolta nell'uso del linguaggio però ci sono effettivamente momenti o figure proprio specifiche che sentono come un'esitazione di fronte al dire e al dirsi quindi lì entra in gioco se volete qualcosa che conosciamo abbiamo sperimentato anche soltanto in fasi limitate della nostra vita quella timidezza o introversione che ti rende impossibile la pronuncia senti molto fortemente ma non trovi le parole e magari le hai però non riesci a tirarle fuori ecco quel personaggio cerca anche lui un po' come insomma specularmente diciamo ai personaggi di cui parlava Donatella perché è un altro mondo da un certo punto di vista però cerca un luogo in cui le parole siano pronunciate e pronunciabili siano sostanzialmente disgelate perché è anche una questione di parole ghiacciate per l'appunto grazie allora adesso vi faccio qualche domanda che è per tutti e per tutte perché vi voglio bene in fondo ma fare una domanda ognuno per ciascun libro diventa veramente un po' complesso però mi ha aiutato un'uscita cinematografica molto recente che è Inside Out 2 che non so forse non avete avuto tempo di vederlo lo capisco non farò nessuno spoiler per carità è un film bellissimo insomma se vi capita andate al cinema a vederlo nella plancia delle emozioni la plancia di comando delle emozioni che è nel cervello della bambina protagonista ci sono delle emozioni nuove rispetto al primo Inside Out è un film della Pixar d'animazione vabbè immagino che lo sappiate e tra le nuove emozioni c'è un'emozione che in realtà viene un po' subito rimessa al suo posto e fa delle piccole comparsate ma è un'emozione che secondo me rimane un po' nel cuore anche per la sua veste grafica che è nostalgia che è una simpatica vecchina che entra in scena con una tazza di tè dicendo ma vi ricordate quando e loro gli dicono aspetta però la protagonista è adolescente francamente la nostalgia non mi sembra l'emozione più adatta in questo momento e lei ritorna per poi rivenire fuori quando sarà più grande partendo da questo da questo presupposto mi è venuto in mente perché leggendo i vostri libri il fatto di un passato da ricostruire a volte conosciuto a volte invece sconosciuto e che quindi va un po' ricercato come se ci si trovasse in un giallo che va ricostruito attraverso ricordi testimonianze parole impressioni e che a volte quando viene ricostruito dai vostri protagonisti e protagoniste diventa in realtà un'altra cosa cioè diventa una nuova realtà non è solo un passato che si ricorda è qualcosa di nuovo anche se è una cosa personale allora io ho pensato quante volte ricordando le cose anche del nostro passato ci rendiamo conto che adesso sono diverse o comunque è come se potessimo ricostruirle e trasformarle quindi vorrei vorrei un po' capire da voi che cosa avete scoperto o costruito o ricostruito scrivendo questi libri sia di voi stessi che anche delle storie che raccontate se non sono storie diciamo del tutto ovviamente autobiografiche e vi do le scegliete voi da chi è cominciare non voglio fare come si può continuo io ma è una domanda particolarmente complessa questa è bella anche allora io racconto fatti avvenuti 40 e passa anni fa ho nostalgia di quel periodo non lo so cioè c'è un'accezione di nostalgia che ha a che fare con il dolore di tornare sui certi posti sì allora in quel caso sì perché è stato un periodo doloroso però c'è una sfumatura di nostalgia che però forse Tommaso mi aiuterà è più è più una parola tedesca che credo sia seinsucht che è una i tedeschi sono particolari è la nostalgia di qualcosa che non si è vissuto allora io forse sono così ho una nostalgia colorita come dolore nel ritornare col passato e ho una nostalgia seinsucht per quello che non c'è stato perché poi questo lutto ha portato tutti gli anni successivi sono stati senza mio padre il tutto farebbe pensare e credo che sia anche così a un libro poco particolarmente allegro però come ho spesso cercato di dire tutti noi che facciamo questo lavoro quando parliamo anche di cose che sono dolorose o che sono tristi o cupe o comunque negative secondo me e secondo noi il fatto di parlarne di creare qualcosa che non c'è con la nostra piccola arte che è quella della scrittura fa comunque pendere la bilancia verso una vitalità nel senso che quei fatti ci sarebbero sarebbero lo stesso dolorosi ma raccontati hanno un'iniezione di vita che altrimenti non avrebbero intanto grazie per la domanda sicuramente chi dice chi tace è un romanzo che all'apparenza è fondamentalmente un romanzo che si basa su un sentimento come la nostalgia perché lei russo da subito comincia a chiedersi cosa sarebbe successo se si fosse accorta di quello che provava per Vittoria mentre Vittoria era in vita fino a stamattina quando ho letto questa recensione di Adriano Sofri sul foglio a chi dice chi tace sulla quale rimarrò incistata per i prossimi tre mesi quindi è cominciata solo stamattina perché a un certo punto Adriano Sofri dice parlando del libro a un certo punto dice c'è solo una debolezza nel personaggio di Lea quando si chiede e se fosse successo e se fosse successo in quel senso cioè se avessero avuto una relazione lui dice la domanda è sbagliata perché in qualche modo ciò che è successo è successo cioè loro hanno avuto una storia d'amore però quella storia d'amore è stata con quei gesti non c'è altro quindi che cosa fa Adriano Sofri si riprende una questione che è la questione fondamentale cioè esistono o non esistono le cose che sono accadute Aristotele diceva ma il cedro che cade in Libano fa rumore o non fa rumore per noi ecco e quel rumore esiste o non esiste ecco e questa è una cosa che io ho avuto fin precocemente da bambina questa specie di idea che ci fossero tutte le cose squadernate dove ce ne toccasse solo una e continuassero a esistere una volta presa quella tutte le altre ecco questo probabilmente non è vero però questa cosa mi è passata quando a un certo punto all'età di undici anni ho letto I Malavoglia di Giovanni Verga leggo I Malavoglia e impazzisco perché impazzisco per una frase di Maruzza La Longa Maruzza La Longa che è la donna diciamo la figura preminente la mamma di tutti I Malavoglia e che cosa dice quando Antoni sta per tornare il figlio sta per tornare dal mare lui torna vivo ma un altro marinaio muore e a un certo punto Maruzza La Longa dice e la Verga fa dire La Longa e La Longa si stupì che in mezzo a tutta quell'acqua fosse morto di sete e allora lì ho pensato che in effetti i libri riescono a chiudere quella nostalgia e quell'idea che una volta presa un'azione le altre non esistano perché in effetti non esistono ma tu te le puoi andare a riraccontare da capo attraverso i libri degli altri io penso che uno diventi scrittore o scrittrice perché non vuole abbandonarsi a quell'idea fisica dimostrata dalla fisica negli anni dieci del novecento dove se tu prendi una cosa il resto non esiste più cioè dà l'esistenza il fatto che tu la prenda dà l'esistenza il fatto che tu la vivi la metafisica è tutta nella carne e quella cosa lì che scriveva Adriano Sofri e che è una questione vecchissima che parte da Aristotele e che prendeva a me bambina scauri che ha fatto sì che una donna di più di 40 anni scrivesse questo libro è stata colmata col sentimento della nostalgia della vecchina con il tè leggendo i libri e io penso che si sopravvive alla nostalgia connaturata all'essere umano perché leggiamo e certe volte leggiamo talmente tanto che i libri li scriviamo quindi non è importante tanto che i libri si pubblichino una volta che sono stati scritti ma l'importante è scriverli i libri perché ci si concilia con il fatto che è vero che esiste solo l'azione che abbiamo vissuto e questo dovrebbe bastarci e darci la responsabilità ma possono esistere le altre se ce le raccontiamo il racconto dà ontologie d'esistenza alle vite che non abbiamo vissuto i racconti degli altri e i racconti nostri scritti allora è una domanda bellissima io spesso vado a cercare le storie nel passato in questo caso è successo anche in altri casi e ogni volta mi viene in mente invece la frase di uno storico che è un famoso storico britannico Obsbaum io non mi ricordo in che saggio ma era un saggio dedicato a quella che lui chiamava l'età crepuscolare che è una bellissima definizione che lui usava per intendere il momento della storia in cui mamma e papà erano ragazzi cioè quella parte di passato che per noi è inattingibile perché non c'eravamo e però ci riguarda da vicino ci tocca da vicino allora tante volte io mi sono trovata a raccontare storie che in qualche modo erano ambientate in quel tempo lì cioè poco prima che io ci fossi e siccome ad esempio con la mia nonna io ho avuto di fatto un rapporto che era materno nel senso che mi ha tirato su quindi anche un po' più indietro e questo interesse io lo misuro anche a scuola io insegno storia e non è vero che ai ragazzi non interessa niente la storia ai ragazzi interessa poco la storia che non ha questa caratteristica cioè che non è immediatamente afferrabile con questa fune rappresentata dalle relazioni dalla famiglia dai nonni dai bisnonni perché lì la soglia di attenzione aumenta fortissimo e e credo che allora lì la parola nostalgia ecco funzioni meglio in una versione inglese per parlare di altre lingue che è homesick perché quando vai indietro così in qualche modo nel modo in cui ho cercato di spiegare è come fosse una nostalgia di casa anche del pezzo che non hai vissuto mi ricollego a quello che diceva Dario in questo senso in queste però ecco la Chiara ha spiegato molto bene questo fatto che poi la scrittura la narrativa quando prova a essere seria di qualità insomma va a rendere vere le cose che non hai vissuto le alternative che non hai vissuto ecco questa cosa se fatta seriamente per lo meno per quel che mi riguarda mi ha portato spesse volte se non sempre a pensare che non c'era da aver tanta nostalgia cioè che effettivamente un certo mondo che nel caso delle mie storie è spesso un mondo rurale e che è alle nostre spalle non solo perché segnato da conflitti come nel caso di questo libro ma in generale come chiamiamo la civiltà contadina ecco per capirci cioè tutto quello che è venuto prima per noi della trasformazione connessa al boom industriale ecco c'è veramente poco da aver nostalgia a volte ci sono dei nostalgici che la propongono come un'età sicuramente a misura d'uomo rispetto ai ritmi frenetici che abbiamo adesso e agli obblighi che abbiamo adesso la pressione sicuramente non era misura di donna ecco questo questo è un po' il frutto delle mie esplorazioni narrative è una bellissima domanda grazie anche questa e io c'è una frase che ha detto mio figlio qualche tempo fa e che raccontavo anche ai miei compagni di strada e cioè mi chiedeva di spiegargli una lezione di storia e gli ho detto ah ti piace la storia allora hai fatto no mi fa schifo ma mi interessa ecco questa mi sembrava una buona risposta perché ci dice qualcosa sullo sguardo che gettiamo che gettiamo sul passato se uno si decide di intraprendere un progetto autobiografico immediatamente si pone il problema della nostalgia ovviamente e se lo pone come problema perché la nostalgia lo sappiamo non gode di cattiva fama come la vecchina di In and Out perché deforma le cose sembra che tutto sia andato meglio di come effettivamente è andato forse lo sono spento toccandolo no l'ho ucciso va bene scusate quindi quindi il problema uno se lo pone io non voglio semplicemente andare salvare un passato guardandolo attraverso una lente rosa però poi mi sono reso conto che i momenti che mi interessavano erano per esempio la vita dei miei genitori ed erano persone profondamente prive di nostalgia e si capisce perché erano persone che erano uscite da fascismo e guerra mondiale e sentivano di essere un po' come personaggi di Raffaella i protagonisti di un mondo nuovo non erano poi delle persone molto progressiste in realtà lo sono diventate man mano di più ma sentivano di essere generazionalmente diversi dai loro genitori mi ricordo mio padre che andava in giro in macchina e quando una macchina era lenta diceva spostatevi siete vecchi 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 quasi con rabbia quindi c'era questa antinostalgia da capire e c'era un'antinostalgia da capire anche nel me stesso adolescente perché come moltissimi adolescenti sì possono fare tenerezza i bambini più piccoli eccetera ma sostanzialmente quello che ho notato spesso anche insegnando nella scuola negli adolescenti è il senso di uno stacco cioè io ho iniziato una fase della mia vita sono in un momento aurorale e non rimpiango il passato se non qualche volta in modo un po' sentimentale allora capire come la nostalgia scompaia completamente questo mi sembrava una cosa interessante da comprendere anche perché se uno le cose non vuole ricordarsele magari è perché non sono tanto belle quindi il desiderio dei miei di cancellare quello che effettivamente era stata la guerra quello che effettivamente era stato il fascismo significava cercare di capire cosa erano stati davvero per loro e il desiderio di me adolescente di cancellare l'infanzia significava capire cosa era stata l'infanzia per me e infatti c'è un'esplorazione di un bullismo che ho largamente rimosso di cui non ricordo episodi precisi ma che c'è stato indubbiamente quindi nostalgia sì ma soprattutto capire in che modo questa questa nostalgia questo sguardo all'indietro guarda l'oblio la dimenticanza un po' nello spirito di quella frase di Santayana chi non ricorda il passato sarà condannato a riviverlo è un po' questo il movimento che mi interessava fare grazie beh è molto bella questa frase che ha appena citato Tommaso chi non ricorda il passato sarà condannato a riviverlo ma soprattutto se c'è una negazione del del passato se a questo passato non non è stato dato un senso il passato stesso non non finisce mai di essere attivo nel presente di sabotare anche a volte il presente e quindi per me per esempio nel romanzo questo è stato un lavoro molto importante costringere i personaggi a riprendere in mano quel passato che non avevano più voluto nominare quindi anche a un livello di collettività di piccola comunità questo trauma che aveva segnato la comunità il duplice femminicidio avvenuto in un piccolo posto in un posto isolato di montagna di cui poi nessuno più aveva aveva voluto parlare aveva però continuato a a dare i suoi effetti nel tempo a bloccare in qualche modo la storia di quella stessa comunità quindi io credo che il presente non esista mai da solo isolato è un'ovvietà il presente è sempre in tessuto impregnato del del passato che c'è dietro e e nello stesso tempo contiene l'immaginazione la la prefigurazione del futuro e quindi appunto l'importante è che quel passato abbia un senso dopodiché la nostalgia mi fa molta paura soprattutto alla mia età io ho 62 anni e vedo a volte anche tra i miei coetanei questo vivere di nostalgia questo restare legati alle cose belle del passato che poi tutta questa bellezza del passato è sempre una falsificazione e opera di una selezione strabica della memoria che non ricorda più tutto quello che abbiamo vissuto di brutto di doloroso e isola soltanto ciò che ci sembra bello e quindi nella mia vita di tutti i giorni cerco sempre di non cadere nel tanello della nostalgia e cerco di avere ancora un orizzonte davanti e credo che quando non ce lavoro più e vivrò di nostalgia in realtà sarò morta la vecchina del film Inside Out 2 l'ho già screenshotata nella mia galleria anche se non l'ho ancora visto il film perché trovavo adorabile il fatto che i geniali disegnatori e sceneggiatori avessero immaginato che nella mente di Riley questa adolescente che appunto nella prima parte di questo racconto era abitata da emozioni semplici comincia a vivere emozioni più complesse come è normale che sia sulla soglia dell'adolescenza e in realtà la grande protagonista è Ansia che poi non ti abbandona mai mentre la nostalgia appare comunque in modo intermittente anche questa mi è sembrata una cosa geniale ci sono momenti in cui siamo più inclini a riguardare il passato a ripensarlo sono momenti anche di contrazione di qualche volta di chiusura e anche di paura o di sfiducia nei confronti del presente e del futuro altre volte invece nello slancio della proattività ci sembra di non avere più bisogno di pensare nemmeno a come eravamo però credo che ci sia da marcare una distinzione abbastanza netta tra la nostalgia l'uso pubblico della nostalgia e l'uso privato della nostalgia la nostalgia sul palcoscenico della politica o del discorso pubblico è sempre pericolosa quasi sempre non c'è quasi mai un momento in cui se tu evochi un passato come modello come misura delle cose non sia già di per sé contenere non contenga già di per sé una matrice reazionaria c'è una sorta di pericolosissima allergia al cambiamento nell'uso pubblico che si fa della nostalgia e quando una collettività come oggi si può vedere diciamo a diverse latitudini non riesce a pensare nemmeno già al futuro che può essere anche un alibi concettuale ma al presente per l'appunto e si richiama a radici a valori a tradizioni è molto molto scivoloso questo sempre perché in qualche modo siamo portati e quindi dobbiamo trovare degli anticorpi a pensare che l'età dell'oro è alle spalle questa è una costante della storia umana non c'è stato un momento in cui chi è venuto chi ha vissuto un dopo un dopo la rivoluzione non ha rimpianto quello che c'era stato prima e naturalmente era un fatto anagrafico è un fatto di disorientamento di fronte alle trasformazioni quindi credo che questo sia pericolosissimo e oggi anche diciamo da fronti da cui non ci aspetteremmo il contrabbando di nostalgia invece arriva la nostalgia come se appunto il paese questo e altri fossero bloccati in un sogno di loro stessi che è un sogno marcio un sogno ambiguo un sogno tossico perfino nel caso invece della nostalgia privata lì possiamo effettivamente metterci nella condizione di pensare che non sia soltanto una questione di rimpianti perché è vero che il rimpianto produce anche lui delle tossine che ci impediscono poi di metterci di fronte a quello che accade quindi come diceva Donatella magari alla lunga smettiamo di vivere c'è un personaggio di Borges molto famoso da diventare proverbiale che è uno che non dimentica nulla si chiama Funes il memorioso ed è uno che non dimenticando nulla non vive più quindi c'è necessariamente una parte di oblio il mio personaggio oggettivamente crea questa dialettica tra memoria oblio vorrebbe costruire questa memoria però sente che poi la memoria si polverizza anche la propria negli altri e sto per concludere questa volta dicendo che in realtà quello che ma invece a me come autore fin dall'inizio mi ricordo il rimprovero di un critico adesso mi verrebbe di voglia di parlare di un altro critico che voi conoscete però non lo so adesso voglio perché l'ultima serata uno potrebbe anche insultare i critici fare delle cose strane però vabbè sì ma così nel senso che poi non capiscono un cazzo e poi in ogni caso è interessante perché dentro inside out c'è più intelligenza che in certe recensioni ma questo succede però a parte le battute che non sono battute però la questione che mi interessava sulla quale davvero chiudo è che non c'è soltanto la dimensione del rimpianto io credo che ci sia e l'hanno detto un po' tutti e tutte i miei compagni e compagni di viaggio la dimensione del perduto cioè non è detto che quel perduto sia buono o cattivo sia da rimpiangere o da non rimpiangere è in quanto perduto che qualche volta ci sconvolge cioè il fatto stesso di dover dire con un tempo verbale preciso era e questo mette in difficoltà uno scrittore oppure proprio perché lo mette in difficoltà come mette in difficoltà ogni essere umano lo incentiva a riattivare l'intensità di un presente cioè a vedere un passato come un presente o un futuro che sta per cominciare se tu la storia della tua autobiogrammatica la vedi non come qualcosa che hai alle spalle ma come qualcosa che sta per cominciare come se tu risalissi la corrente allora le vite di chiunque diventano incredibilmente affascinanti minacciose avventurose tutto sta sempre per cominciare nel bene e nel male lo scrittore secondo me si incarica di fare questo quindi sente la violenza la radicalità del perduto di qualcosa che comunque non è riattivabile e lo riattiva come quelle scosse che dai quando devi davvero far tornare a battere un cuore quella scarica elettrica è la scrittura grazie questo mi mi solleva molto perché io quando mi ricordo nettamente quando lassi da piccola una biografia di un'autobiografia di Dario Fo e pensai vabbè ma grazie che è stupenda questo ci ha avuto una vita incredibile nel senso e invece no magari se qualcuno sa raccontarla bene anche le vite le vite più semplici e vorrei farmi una domanda è vero che quando si parla di libri uno dovrebbe mettere al centro il libro quindi il libro come è scritto la storia però io penso sempre che quando si fanno le presentazioni si ha l'occasione di avere l'autore o l'autrice e quindi mi piace sempre un po' indagare il rapporto che c'è fra il libro e l'autore o l'autrice e una cosa che spesso mi capita quando intervisto gli scrittori e le scrittrici è cercare di immaginarmi come si è evoluto come è cambiato il loro rapporto con quello stesso libro perché molti mi dicono ah ma no io poi quando ho scritto non lo voglio vedere più oppure nel senso cioè diventa una cosa fuori da me ecco alcuni mi dicono non riesco a rompere il cordone un velicale con quella storia e io nella mia testa penso ma si annoieranno a parlare sempre è come quando un cantante canta sempre le stesse canzoni poi arriva De Gregori ogni volta le fa diverse e dice ecco questo è il trucco per non annoiarsi farle diverse e allora mi sono chiesta e chiedo a voi magari invertendo l'ordine così facciamo una roba diversa come è cambiato se è cambiato in una frase o insomma in un aggettivo il vostro rapporto con questi libri questi qua che state portando in giro adesso cambia perché un po' è vero che a furia di ascoltarci raccontare sia noi stessi che i libri degli altri abbiamo visto probabilmente zone che non avevamo visto bene e anche negli accostamenti qualche volta solo accidentali si è chiarito un passaggio a me è capitato davvero come Donatella che ogni tanto prende qualche appunto anche mentre dicevano delle cose Tommaso o altri ho detto beh no adesso questo è un po' più chiaro anche per me credo che intanto i libri cominci a capirli fino in fondo davvero quando c'è un atto di restituzione cioè quando qualcuno e a parte la battuta che facevo prima in realtà anche qualcuno chiaramente dice non mi è piaciuto e te lo motiva e allora tu dici forse non sono riuscito a far capire le mie intenzioni e lì misuri sempre una sproporzione che è enorme tra appunto le intenzioni e l'esito quanto sei stato capace di arrivare a quell'esito mantenendoti fedele alle intenzioni eccetera poi c'è pure per me almeno una fase di rifiuto di rigetto nei confronti del libro è vero che quello che un po' ti sta più a cuore l'ho sentito dire pure da Donatella quando ti chiedono qual è il libro è una domanda che si può fare è normale che dici l'ultimo ma perché è semplicemente più recente e hai cercato magari di superare dei difetti del libro precedente o comunque di allargare l'orizzonte la fase di rigetto nasce dalla sensazione per l'appunto di non essere riuscito fino in fondo a fare tutto quello che uno voleva fare e probabilmente però questa diventa la molla per scrivere poi ancora un altro libro riprovarci un'altra volta c'è quella frase che Sandro Veronesi spesso anzi sempre mette come epigrafe ai suoi libri che dice di Beckett che dice non posso continuare continuerò aggiungo scusate una cosa sfidante vorrei se è possibile visto che abbiamo parlato di lingua e di linguaggio un aggettivo che definisce il vostro rapporto con questo libro se ti viene in mente visto che te l'ho detta bruciapelo ci puoi pensare un po' di più perché ce l'hai? no vai pensaci thanks voi pensateci Stasera c'è questo duetto tra me e Paolo quindi riprendo da lui questo concetto della restituzione che poi ci viene fatta ci viene fatta in vari modi dalle lettrici e dai lettori da chi ci intervista su un palco da chi ci stronca o ci loda sulle sulle pagine quindi quella è una fase che si apre dopo aver consegnato il libro all'editore per me per me è molto importante perché da quella restituzione mi viene pian piano nel tempo nei mesi una costruzione di senso nel momento in cui io finisco il libro non ce l'ho completa questa costruzione di senso non sono consapevole non sono veramente consapevole di tutto quello che ho messo nel libro ed è solo appunto a volte chi legge che stana qualcosa che c'è sotto la pagina che io so di aver messo ma che ancora non ho non ho portato alla alla luce e in questo sta anche la bellezza di questa relazione feconda tra chi scrive e chi legge io cito sempre Borges amatissimo che a un certo punto scardinando proprio la asimmetria tra scrittori e lettori li mette proprio sullo stesso piano e dice del tutto arbitraria è la circostanza che di queste pagine io sia l'estensore e tu il lettore proprio perché c'è questa circolazione poi tra una parte e l'altra e c'è questa restituzione di di senso di un senso più profondo e poi ecco per me quando ci fanno questa domanda che arriva spesso qual è il tuo libro preferito dei tuoi io appunto rispondo è sempre l'ultimo ma non perché l'ultimo sia necessariamente il migliore ma proprio perché dall'ultimo non hai ancora ritirato i tuoi investimenti questi personaggi sono ancora vivi attivi nella vita come come durante il processo di di scrittura e poi mi accorgo che invece è finita e che quel cordone ombelicale l'ho tagliato nel momento in cui appunto mi arriva l'idea un'idea nuova l'idea del del prossimo e l'unica cosa che posso dire del del rapporto con ma non con questo con ogni mio libro è profondo ok grazie grazie per la domanda e allora penso che la prima cosa anche questo è emerso spesso nelle conversazioni che abbiamo avuto in questo in questo periodo la prima cosa che un autore deve fare quando progetta un libro è creare una voce lo diceva anche Paolo qualche giorno fa cioè creare sostanzialmente un personaggio un personaggio anche nel caso in cui sei un autobiografo che racconta la propria vita quello che crei è una voce di personaggio che racconta la sua vita e che ha un suo linguaggio appunto di nuovo il personaggio il linguaggio di cui parlavamo prima ora nel momento in cui chiudi questo libro lo consegni lo viene stampato ed è lì questa voce personaggio diventa qualcosa di esterno cioè c'è un tizio che ti sta raccontando la tua vita è una sensazione molto strana anche perché per me è come credo per tutti la nostra vita è inesauribile cioè noi possiamo ricordare centinaia migliaia di luoghi di persone di piccoli momenti di grandi passi è chiaro che anche un libro lungo come quello che uno scrive raccontando i primi vent'anni della sua vita è un libro cortissimo rispetto a quello che potrebbe dire e quindi le voci e i personaggi potrebbero essere tanti altri quindi ti trovi di fronte a questo libro che ti appartiene al tempo stesso sai benissimo che viene dal di fuori da un'altra voce con cui ti confronti e quindi c'è un senso un po' di sconcerto e ha maggior ragione se questo libro arriva fino ai ventidue anni circa perché poi hai continuato a vivere e quindi già in fondo sta maturando dentro di te un'altra voce che sembra un po' di essere in e out no? un'altra voce che costruirà in un altro modo la storia della vita che hai vissuto quindi c'è una moltiplicazione dell'io e al tempo stesso un senso di definito perché il libro prima di tutto è un oggetto stampato un oggetto oggettivo vorrei dire che puoi rileggere e in cui puoi trovare delle cose che non immaginavi prima io per esempio mi sono accorto di aver scritto un libro molto più politico di quanto non credessi perché era politico raccontare una famiglia ma anche raccontare anche un rapporto con il linguaggio anche arrivare a scrivere poesie in un certo modo quindi ti rivela nuovi volti e al tempo stesso senti che c'è sempre tanto altro da dire adesso mi sembra che Donatella accennasse al prossimo libro come a qualche cosa che ti porta in una direzione nuova per me non è necessariamente così anzi direi che il prossimo libro mi porta in una direzione nuova ma in continuità e in scavo e forse lei mi ha rubato l'aggettivo con profondo perché se il rapporto non è profondo con un processo di questo tipo non so come altro definirlo grazie sempre anche questa domanda veramente bella in parte vado a ripetere quello che dicevano sia Paolo che Donatella ma provo a dirlo con le mie sensazioni con le mie parole quindi magari suona un pochino più personale io credo che mentre uno scrive un romanzo via via che individua una voce aumenta anche la percezione di aver colto il senso di ciò che stai scrivendo pian piano e quella percezione è quella cosa che ti fa dire la scena deve andare così il personaggio deve rispondere così il finale deve essere questo e non quest'altro è una maturazione di senso ma e questo io l'ho capito poi veramente dal primo libro io ho capito di cosa parlava il mio primo libro la prima volta che ho incontrato i lettori sembra una cosa è un'esperienza assolutamente comune per chi scrive perché è l'incontro con gli altri che illumina le cose che tu non avevi così chiare che c'erano dentro e questa è una cosa bellissima è una cosa che va proprio a che fare con il processo della scrittura che è un processo di lettura contestualmente e che quindi veramente ci accomuna non esiste un libro che non viene letto proprio non esiste non esiste la frase scrivo per me non è così perché l'attività della scrittura è sicuramente un'attività espressiva cioè dove tu tiri fuori qualcosa che hai dentro e lavori su questo e quindi ti esprimi in questo modo ma se solo quello non è è innanzitutto un'attività comunicativa cioè ci deve essere qualcuno dall'altra parte che prende sta roba che tu hai costruito e ci mette dentro se stesso trovando un senso che poi nel ben augurata ipotesi di incontrarsi di incontrarsi perché c'è qualcuno che ti fa quella domanda e non quell'altra ti arriva e quindi è veramente un circuito assolutamente virtuoso per tutti gli attori secondo me e quanto al rapporto quindi all'aggettivo che dovevo dire a me viene solo amoroso ma nel senso che se si diceva qualche tempo fa in certi dialetti non c'è la parola amore ma si dice ti voglio bene in piemontese e ne parlavamo io proprio ho voluto e continuo a voler bene ai personaggi alla storia quando scrivo mi prendo cura di loro mi prendo cura di quello che a loro accade e questa sensazione proprio di amore che ho per questo mondo finto che ho inventato anche se basandomi su cose vere che è un mondo finzionale ecco io nei confronti di questa cosa ho un rapporto che è d'amore allora intanto io scrivo continuamente tutti i giorni un sacco di tempo al giorno da quando ho imparato a scrivere siccome vengo da posti dove si fanno le mozzarella e si vedono fare le mozzarella io immagino la scrittura come una grande pasta di mozzarella dove a un certo punto il mozzarellaro decide che vuole fare i bocconcini vuole fare la tetta vuole fare la treccia gigantesca e a un certo punto vuole fare il leone come Canova che fa il leone di burro quindi io mi immagino la scrittura o comunque penso me stessa come il mozzarellaro che a un certo punto ha questo gigantesco flusso e decide di farci delle cose e nel momento in cui decide di farle e le fa capisce che le sa fare quindi questo è sostanzialmente il mio rapporto con la scrittura dopodiché io più ancora di scrivere leggo dalla mattina alla sera e perché leggo dalla mattina alla sera un po' per quella cosa di prima della nostalgia che le cose una volta che le hai toccate esistono quelle e le altre non più e vuoi avere quelle a fianco un po' perché mi diverte vedere se nei libri c'è lo spazio per le interpretazioni che non sono quelle di chi le ha scritte ecco quando io nei libri mi vengono dette rispetto ai libri che scrivo delle cose che non avevo pensato e che ci sono penso ecco ho scritto un libro perché questo libro contiene lo spazio di vita per un altro essere umano che ci legge quindi ogni volta che c'è qualcuno che mi dice rispetto a questo libro qui molte persone mi hanno scritto dicendo ma nella figura di Vittoria c'è Michela Murgia e io dico no non c'è Michela Murgia rispondo però dentro di me penso uno mi viene da ridere penso Murgia avrebbe odiato Vittoria la seconda cosa penso però se ce la vedono forse da qualche parte per loro esiste e va bene lo stesso nel senso quando sei diventato lettore o lettrice del libro che hai scritto va bene così quindi anche tu puoi avere il diritto di vederci delle cose che non c'erano prima e questo è fantastico perché tu sicuramente non ce le hai messe però da lettrice ce le puoi mettere dentro e quindi puoi correggere ciò che hai fatto l'aggettivo dunque rispetto a questo libro è quello che ho rispetto a tutti gli altri libri per me è una cosa solita dopodiché dopo 30 presentazioni noi chiaramente adesso viviamo nel Samsara nella ripetizione adesso la ripetizione se la gallia è divisa in tre parti come diceva Cesare esistono per me due definizioni affidabili di ripetizione la prima è quella che è da Proust nella recherche nella recherche c'è tutto quindi se dite ci stanno i basoli sì, ah sì nei basoli nella recherche comunque c'è sicuramente la ripetizione la ripetizione che dà il senso della realtà quindi ripetendo e raccontando il nostro libro questo libro acquisisce una forma dalla seconda parte la ripetizione che è il contrario della nostalgia ma sarebbe troppo lungo da dire quindi qui chiudo Paolo Di Paolo la seconda parte della ripetizione è la mitologia cioè il si dice la ripetizione mitografica su una cosa motivo per cui non solo dopo 30 incontri noi abbiamo un po' tutti scritto il libro degli altri e contraddetto il libro degli altri corretto il libro degli altri e fatto un solo libro ma alla fine abbiamo scritto tutti e di questo vorrei ringraziare la fondazione e tutte le persone che ci hanno incontrato abbiamo scritto tutti Anna Karenina perché siamo tentati un'altra cosa quindi grazie volevo solo spiegarvi che nelle altre 28 presentazioni è stato fornito un servizio di sottotitoli per gli interventi di Chiara Valerio ma a me capita sempre e anche con questo libro capita è capitato che finito alla stasura dopo averlo letto riletto letto quando poi stacco per un po' e mi capita di rileggere dopo qualche giorno non mi piace non capisco cosa ho fatto mi deprimo eccetera eccetera poi dopo anni invece magari vado su libri che sono più vecchi e dico ma sì qua quello che volevo fare un po' l'ho fatto insomma arrivo a una medietà di giudizio dove mi sono mediamente simpatici non penso amo molto di più altri libri di quelli che ho fatto io però non lo disprezzo mi sembra sano però anche un po' volendo mi sembra sano sì 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 in questo qui però fa un po' fa un po' eccezione perché sono stato costretto a parlarne sempre da mesi ormai no? e quindi quindi se avessi continuato a disprezzarlo sarei veramente messo malissimo e quindi ho cercato di anticipare questa fase in cui mediamente può andare e adesso non lo so se da domani i tre giorni in cui non ne parlo lo odio e non voglio più saperne ma non lo so perché non mi è mai capitato di fare una tournée in seguito a un mio libro di questa di questa urgenza e tempestosità però l'aggettivo invece è radicalmente diverso da quello che avrei potuto dare a tutti gli altri i miei libri perché mi viene da dire tipo complice mi sembra un libro complice in che cosa è complice nel senso che ci sono delle scene nel libro dove mio padre è malato all'ospedale e non può fumare e io di nascosto gli porto le sigarette quel tipo di complicità lì insano ovviamente ma voglio dire rispetto a come stava faceva ridere la sigaretta mi viene come modello di pensiero di questo libro perché io mentre lo scrivevo scrivevo di mio padre cercavo quindi di rendere condivisibile un'esperienza mia e una persona che ho conosciuto sostanzialmente solo io lo facevo anche per mia figlia che non l'ha mai conosciuto e quindi io trovo che questo mio libro è complice con me nello spiegare a mia figlia come era suo nonno che non l'ha mai visto quindi c'è questa cosa in più che negli altri libri non c'era grazie Paolo vuoi dirci l'aggettivo nel frattempo o stavi sbagheggiando no 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 te lo dico ma è una citazione in realtà perché come hanno raccontato spesso voi avete capito che siamo all'ultima no? è chiaro questo? sì sì ecco quindi quello che succede stasera è finale è definitivo è ultimo ed è divertente anche però questo è l'aggettivo che rubo a Marcella in prima fila straziante cioè io trovo bellissimo l'uso che ne fa lei perché si può applicare ho scoperto da Chiara Valerio anche a una mozzarella a proposito è straziante cioè quando è una cosa veramente però per certi versi alla lettera il rapporto che ho con i libri è straziante ma anche nell'accezione un po' negativa cioè che mi strazia continuamente no? quindi a pensarci per quello pure che diceva Dario perché conosco bene quella idea per cui i libri che hai scritto benché nascano da un rapporto amoroso possono diventarti incredibilmente antipatici li trovi difettosi ti ricordano una stagione della tua vita con cui non hai fatto pace quindi non conta quello che sei riuscito a fare ma conta che lo percepisci come un libro comunque e allora ti strazia perché torna appunto a visitarti perché comunque ti continua a interrogare quindi visto che mi sembra però un aggettivo bellissimo anche per il tour questo è stato un tour straziante Paolo Di Paolo non era arrivato quando Dario Voltolini ha dato a tutti la soluzione per diciamo non morire domani dopo questi 30 giorni insieme ecco perché l'ultimo atto Dario Voltolini lo ricordo l'ultimo atto non si sa quanto dura quindi potremmo poterlo per sempre è vero un'ultima domanda proprio legata al fatto che questa è l'ultima data e dopo insomma la celebreremo degnamente mi sembra di aver capito Diero Le Quinte ma l'ultima domanda che vi voglio fare sul palco la celebriamo proprio no mi sembra di aver capito Diero Le Quinte cioè io ho capito Diero Le Quinte hai capito tu Diero Le Quinte questa è una questione sintattica ma perché io infatti non sono una scherchice c'è un po' difficile no volevo però chiedervi una cosa che riguarda questo tour questa probabilmente sarà la domanda meno affascinante perché qualcuno ve l'avrà già fatta ma mi godo i complimenti precedenti e li porto a casa e che cosa avete scoperto di voi stessi visto che è diventata una situa psicoanalitica cosa avete scoperto di voi stessi durante questo percorso dello strega insieme un'altra volta di qua scusa perché no dal mezzo se volete dal mezzo non può partire così a richiesta la risposta vai a richiesta sì se qualcuno già ce l'ha qualcuno che ce l'ha in testa non ce l'ha nessuno io ho imparato che posso stare tutto il giorno con delle persone senza sbroccare perché invece ero certa di dover avere per forza dei momenti di solitudine perché altrimenti sbroccavo quindi invece ho imparato che posso stare in mezzo alla gente e questo io di questo vi ringrazio chi vuole andare ma non avete imparato niente per me la cosa più bella in questo momento della la cosa più bella che ho imparato in questo momento della mia vita in questo 2024 che è venuto dopo quel 2023 e che potevo ancora ridere io vengo da un'esperienza di persona che ha pubblicato pochissimi anni fa il primo libro di poesia e quindi si è immerso nel mondo dei poeti anche se erano poesie scritte nel corso degli anni e ci sono molte eufemismo tensioni nel mondo dei poeti traduzione dell'eufemismo odi feroci e viscerali e ora non so se ci siano differenze fra poeti e prosatori oppure no so che si parla molto di odi feroci e viscerali nel mondo dei premi letterari e invece io ho scoperto che ci si può voler bene nel mondo dei premi letterari allora io sono partita con un po' una scommessa con me stessa soprattutto sulla mia tenuta fisica devo dire la verità ho detto io non ero sicura di arrivare in fondo e ho scoperto che invece posso arrivare in fondo per me ma io intanto li ringrazio perché grazie a loro io ho imparato che posso permettermi di sparare così tante cazzate ma così tante cazzate senza che mi succeda niente di male insomma mi sono autosdoganato grazie a loro penso che ci siamo tutti cioè divertiti a parla per te no divertiti non c'è ancora pezzo della frase divertiti a forse pure a fingere di dimenticarci l'ho sentita questa in realtà la rubo da un autogrill ne abbiamo toccati parecchi un autogrill è il seguito dell'autobiogrammatica molto però Dario dopo che aveva detto una delle sue cazzate che aveva fatto non ho capito più se inorridire il barman oppure partecipare però insomma abbiamo cominciato a un certo punto io e chi era? io e Dario abbiamo alzato Chiara Valerio all'improvviso così abbiamo poi provato a farlo anche con Voltolini io e Giartosio con più difficoltà però a un certo punto quel barman ci ha guardato non sapendo che ovviamente giustamente che fossimo degli scrittori gente che c'ha anche un ruolo qualche volta pubblico e quindi ci ha guardato come dei dementi che entravano in un autogrill e questo l'idea di potersi dimenticare e torno all'ultimo piccolo pezzo di parte seria anche i dolori da cui nascono i libri anche le inadeguatezze le mancanze le lacune cioè scriviamo sempre per riempire qualche vuoto e quindi dentro i nostri libri circolano questi vuoti quello che siamo stati che magari anche Donatella ha raccontato un pezzo della sua infanzia tutto questo che fa anche un po' male sta dentro i libri ma noi in molti pezzi di queste tappe ce ne siamo allegramente dimenticati grazie mille siamo arrivati alla fine di questa di questa serata ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato e come mi è stato giustamente richiesto io dovrei chiamare la sigla come faccio in radio titoli di coda titoli di coda e in particolare la sigla di questa serata sarà anche un po' per ricordare gli eventi appena accaduti ai famosi ragazzi di cui parlavamo prima delle classi notte prima degli esami tieni conto che noi abbiamo cominciato indossando degli occhiali da sole a Benevento ed era abbastanza è uno strega performativo io ve lo dico insomma ad aver capito che è questo abbiamo molti vi dico questo perché magari non avete seguito le cronache abbiamo indossato questi occhiali da sole al momento della proclamazione della cinquina alcuni giornali hanno pensato che fosse una sponsorizzazione cioè che era una marchetta gigantesca a qualche marca di occhiali da sole invece erano Tiger 4 euro a occhiale e lo sponsor era Dario Voltolini perché l'ha pagati lui dopodiché abbiamo fatto altre piccole performance che adesso forse non è il caso di richiamare e quindi abbiamo pensato che possiamo finire solo così cantando mi sembra giusto notte prima del ninfeo prego prego maestro là dietro vai eccolo in piedi in piedi in piedi dovete cantare anche voi non stiamo scherzando dovete cantare veramente qualcuno fotografi la matematica non sarà ma il mio mestiere grazie la prossima a Sanremo sarà dopo lo strega grazie infinite grazie 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 a voi con un po' di commozione questo è il bello della lettura della scrittura dell'amicizia grazie grazie ci avete veramente dato una serata magnifica per chi vuole appunto adesso piano pianino ci avviciniamo qui al palco loro resteranno qui proprio sotto al palco per fare il firmacopie allora io vi dico siete stati bravi anche a cantare secondo me sulla scrittura non c'è dubbio se qua troviamo qualche musicista è fatta secondo me potete partire vero allora grazie grazie a Flavia Capone grazie a Flavia Capone